Era la primavera del 1889. Una giovane donna diede al mondo il frutto del suo amore. Lo guardò negli occhi e gli sussurrò. Benvenuto al mondo, Adolf! Il giovane Adolf crebbe. Era un ragazzo molto irrequieto, voleva fare l'artista. Inoltre era affascinato dai cannoni e iniziò a fumarsi i carri armati. Dopo passò alla cocaina ed infine arrivò l'eroina Wonder Woman che cercò di salvarlo ma non ci riuscì, non ci riuscì nemmeno Superman. Il ragazzo finì in carcere dove inventò la ricetta del Minecraft. Dopodiché iniziò ad odiare i cornetti, le polacche e i kebabari che non erano di Bari. Quando uscì dal carcere il ragazzo iniziò a fare comizi, iniziò a parlare e a chiedere i passaggi. E con il bla 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 car parlando parlando arrivo fino in parlamento dove si arrabbiò sempre di più. Eins, Weintrein, Spark durkost, tatatatatatatata. Il ragazzo diventò sempre più invadente. Si fissò con la razza ariana, la razza pura tedesca. Tutti alti, biondi, occhi azzurri, muscolosi e figone da paura. Sì, ma Hitler non era né alto né biondo, né aveva gli occhi azzurri, non era un muscoloso, non era un figo, non era neppure tedesco, era austriaco. Ma...